1890 Il settimo cavalleggeri dell'esercito USA massacra 400 Sioux in Ermi. 1940 Londra Bombardieri e Luftwaffe sganciano bombe incendiarie. 1998 Due capi Khmer Rossi chiedono perdono per i loro delitti. Commenta il fatto del giorno Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto. Muore Raspote, un protagonista assoluto del declino della monarchia zarista.